Bentornati su MyFootballJersey. Questa che vedete è una maglia speciale dell'Arsenal, secondo me strepitosa. Sono curioso di sapere nei commenti cosa ne pensate. Questa è in versione fan. Grazie a tutti. La maglia è bellissima. Con questi riferimenti, questi disegni nella maglia, stupendi. Bianche e nero è veramente bello. Non mi piace tanto la toppa, ma vedremo nella versione player se la troverò, se sarà meglio o peggio. Il costo lo vedete qui sopra? Ecco, questo è incredibile. Tra l'altro vi ricordo che include anche le spese di spedizione. Se volete maggiori dettagli trovate i riferimenti qua sotto nella descrizione del video. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link col quale potete ottenere un coupon da 5 dollari. Se i video vi piacciono e volete vederli tutti i giorni, mi raccomando iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto. Alla prossima. Grazie a tutti.